Sono le 22 circa, e un sabato, come tanti, il centro di Avellino è particolarmente affollato di passanti, ma nessuno si accorge di ciò che vedrete tra poco, quando nella galleria Tulmiero, a Corso Vittorio e Emanuele, entrano con passo deciso tre ragazzi, mentre fuori ad attenderli e fare da palo ne resta un quarto. Sono minori dell'età compresa, tra i 13 e i 14 anni, hanno la riaspa valda, prima di accedere nella galleria uno dei tre a fare un cartellone pubblicitario sistemato, si marcia piedi e lo tascina all'interno, poggiandolo al muro, ma non è finita, perché i tre bulli, dopo averlo staccato dalla parete, si divertono a distruggere il defibrillatore, prima tirano fuori dalla cassetta di protezione lo strumento salvavita, poi lo scagliano con violenza lontano. Le immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza di un privato risalgono al 30 aprile del 2022, quel defibrillatore ritrovato a pezzi nel vano dei garage, era stato installato dagli amici di Giulio Tulmiero in sua memoria, un gesto d'amore e altruismo che rispecchiava l'animo nobile e generoso del compiando avvocato struncato il 13 novembre del 2020 all'età di 48 anni, un presidio donato alla comunità che, in caso di emergenza, è capace di salvare una vita in tre minuti. Nonostante le indagini delle forze dell'ordine, gli autori del raid vandalico non sono stati mai identificati né puniti, ma il ricordo di Giulio, la sua memoria, sono più forti e vivi di ogni scempio e ingiustizia, e lunedì 13 novembre il nuovo defibrillatore sarà montato nei pressi del luogo in cui era stato diverto e vandalizzato dalla baby gang. La speranza che anche i cittadini prendano a cuore è proprio il caso di dire il prossimo presidio salvavita. Farsi pensare che sono 60.000 le persone vittime di arresto cardiaco all'anno e un intervento di primo soccorso con il defibrillatore aiuta a ridurre il tasso di mortalità del 30%. Mario e Gabriella Tulimiero, i genitori di Giulio, il 22 marzo del 2022, avevano donato un defibrillatore al polo giovani, ricevendo il caloroso abbraccio del vescovaiello. Una luce dal buio di una tragedia, l'ha commentato Monsignor Arturo, quella luce che emanava Giulio a ogni suo passo e che illuminava di fede e speranza chi gli stava vicino, e che sarà ancora uno spiraglio di vita, cui aggrapparsi in caso di emergenza.